Ad Arezzo è nata una nuova associazione sportiva con la finalità della solidarietà. Simone Riceputi è il presidente. Dove, quando, perché è nata questa associazione? Abbiamo deciso di costituire un'associazione che si chiama Corriamo Perre e il nome la dice lunga su quello che vogliamo fare. Quindi l'idea è ogni anno, se il fisico e le gambe ce lo consentiranno, di partecipare a un evento sportivo altisonante e nell'occasione fare una raccolta di fondi che poi destineremo di volta in volta a un soggetto caritatevole. Per quest'anno, per ovvi motivi territoriali, poi lei ne è anche espressione e rappresentanza, abbiamo deciso di raccogliere l'intero devoluto, l'intero incasso delle donazioni e di devolverlo al Calcite di Arezzo. Una presenza importante è la tua in questi dieci atleti che vestiranno il logo del Calcite nella tuta che andrà il 5 novembre a New York. Sì, siamo dieci amici, ma siamo anche dieci ragazzi che hanno in comune il senso della solidarietà. Ragazzi, permettetemi il termine. Abbiamo aperto un conto corrente presso UbiBanca e stiamo cercando, appunto, sono già avviate le raccolte, siamo già oltre il mille euro di raccolta di questa iniziativa che sta iniziando ad avere una certa risonanza in città. Riceviamo tanti complimenti, però credo che i complimenti più belli che possiamo ricevere sono quelli di consegnare i tangibili da parte anche degli amici, dei simpatizzanti, dei sostenitori, di fare dei versamenti che ci possano aiutare. Il conto corrente lo si trova sul nostro blog, è importante, www.corriamoper.org, dove ci sono tutti i riferimenti. E' importante anche sottolineare che noi abbiamo già pagato questa iniziativa da oltre un anno, perché la maratona di New York va iscritta e sostenuta già da un anno, e che soltanto più recentemente abbiamo costituito la società e tutti i fondi che raccoglieremo saranno devoluti interamente alla vostra associazione, di cui daremo trasparenza anche di tutti coloro che hanno dato il contributo.